e ciao ragazzi buon natale a tutti siamo qui su minecraft dopo un sacco di tempo e sono qui perché non trovavo uno speciale di natale da fare quindi ho pensato bene di fare un una griffata epica a questo mondo che è un mashup una mappa di minecraft sul ps4 vediamo quindi un po di griffarla tutta vi dico soltanto che è una mappa enorme quindi questa sarà il preludio di una serie che porterò avanti finché naturalmente troverò mondi e niente io aspetto che arrivi il giorno per riprendo la registrazione e vediamo un po di creare il devasto ed eccoci qui raga mi sono preparato l'inventario anche se alla fine tutta questa tnt non servirà a me nella vita perché come avete visto siamo in creative e niente ho preso soltanto tnt un acciarino e la lava vediamo subito di partire con il nostro fottutissimo griffing di natale avevo l'intenzione di fare le scie di tnt perché questa mappa è grandissima come ho già detto prima quindi dobbiamo fare il più presto possibile oppure mi vengono i video enormi e per natale non ci esce semplice vi direi di aprire già qui vedere un po il primo devasto questa subito devastiamo subito qui che sarà il castello della copertina molto probabilmente mamma mia quanto è bello intanto qui c'è una stazione dei treni io sta mappa non è nemmeno esplorata quindi vediamo un po fatemi sapere anche nei commenti se vi piacerebbe una serie una nuova serie in survival la colonia colonia valle 2.0 vediamo un po che ne pensate ci sto pensando da un po però c'è mancava la voglia perché alla fine non la seguiva nessuno comunque vediamo un po qui non è abbastanza devastato anche se stanno prendendo tutte attenzione c'è questa parte vuota e che cazzo ti credi di sfuggire la nostra furia la nostra furia grifferina come cazzo devo dire non lo so sinceramente sto video non lo so nemmeno io che cazzo l'ho fatto a fare però sti cazzi boom mamma mia bellissimo quando fa così la tnt adesso direi di fare una bella cosa del genere di farla anche qua a sto punto sperando che non inizi a laggare c'è un goblin attenzione un qualcosa non mi ricordo come cazzo si chiama tanto questo è tutto legno quindi andiamo boom beba direi di fare esplodere anche questo cazzo di villaggio con tutti i suoi villager dentro la mia raga comunque io sto dicendo nell'intro non ho trovato mondi la verità è che l'ho trovato in mondo però ho fatto un fede assurdo mi ha visto con la tnt in mano e mi hanno fottutamente espulso e ucciso naturalmente tanto qui è entrato qualcuno nella partita speriamo si unisca a noi perché qua è un po' difficile griffare tutto da solo webbro griffa tutto frate speriamo si unisca a qualcun altro dai cazzo facciamo qui queste dovrebbero diffondersi ovunque comunque daglie così boom devasto non è vero o meno la vita andiamo fuoco qui dentro sti cazzi sti cazzi tac 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 e tac mamma mia raga mamma mia anzi no finalmente si è deciso a griffare anche lui dai cazzo aiutami ce ne ho tanto bisogno in questo momento attenzione qui le collate di lava incredibili anche qui dentro oh che cazzo fai mi apri dei crafting bah mi apri dei crafting a caso questo oh raga che cosa siamo qua a sto albero e che cazzo facciamo una torre del genere tanto questa si espandio ovunque intanto ditemi nei commenti come state passando le fottute feste di natale anche se appunto quando girare questo video sarà il primo o secondo giorno non lo so sinceramente non lo so e qua non è successo un fottuto cazzo di niente allora adesso vi faccio vedere io come si fa esplodere un albero o così una cosa del genere ci sono le scale vaffanculo attenzione eccezionale una torre di tnt enorme che adesso accenderemo tutta dai se non esplodiate eccolo lì grande frate fa esplodere tutto mamma mia raga boom e adesso ci manca una cosa del genere ecco qua siamo due master griffer anche se lui non so chi cazzo sia comunque andiamo avanti mamma mia raga intanto questa non è niente io direi mamma mia quanta lava c'è facciamo esplodere tutto mamma mia raga ci credo bene la vita di che stiamo facendo mentre se ne è andato questa raga sapete che vi dico io adesso metto in pausa la registrazione e cerco qualcuno per griffare tanto ne trovo tanti vabbè raga io ho invitato gente vediamo se entreranno nel corso del video intanto sti cazzi continuo per la mia strada vi dico questo non è neanche il 10% della mappa quindi ha voglia di fare intanto qui grande tnt che ci arrivi da sola io sto da parte mappor me la lascerei perché boh non mi piace vorrei andare dove sono i pupazzi di neve mamma mia raga ok mettiamo un po' di lava qui e poi ce ne andiamo intanto sono curioso di vedere se si sciolgono così anzi facciamo una cosa qua mettiamo tutta lava gli altri facciamo una bella torre di tnt all'interno all'interno che non so neanche se se è pieno naturalmente no mamma mia che cazzo di struttura sto cosa facciamo così questo non esplode dall'interno lo faccio io sto cosa boom 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 vediamo un po' tac mamma mia esplosione sono esplose tutte le budella povero pupazzo di neve sti qua vi mettiamo un po' di lava anzi no qua niente lava questo è un questo è accessibile ma sti cazzi va bene vediamo un po' che ci offriva questa questa chest sempre se sta tenendo di salio ok la fancuccia buonanotte una tromba un disco va bene una tromba oh il pupazzo di neve è a villager grandissimo grandissimo bro solo perchè sei un villager ti metto la lava solo per questo direi di fare una torre anche qui dentro qualsiasi cosa sia anche se sembra una costruzione uguale a quella di prima comunque vediamo un po' questa dovrebbe dovrebbe esplodere meglio sinceramente penso perchè la tnt salta dappertutto e aspettate un attimo forse ho capito questa quale anzi no adesso che ci penso vabbè non voglio tornare indietro quindi vediamo un po' di lava anche su questa lana qui e prima facendo il giro del mondo vi ho visto un'altra città che non è questa questa vabbè facciamo così a questa sti cazzi però vediamo un po' i prossimi griefing però li voglio fare in survival perchè questi non c'è sfizia in creativo spero intanto che vi sia riusciuta intanto una piramide intanto 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 grande amico ok facciamo esplodere anche questa poi 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 qui tutto fa ah questa è un'altra cosa che ho visto una cosa che mi ha spinto a voler rifare la serie perchè voglio fare una casetta come aspettate intanto ho sbagliato qui vabbè voglio fare una casa come questa nella mia serie non così naturalmente però simile intanto qui facciamo una cosa del genere proprio si incolga vediamo l'esplosione dall'interno chi ve le fa vedere l'esplosione dall'interno mamma mia boom esplode tutto mamma mia raga però qui c'è ancora un'altra c'è la vista dall'interno verso l'esterno e adesso non c'è più ah ok raga ricordo adesso dove dovevamo andare volevo fare un bel cervo qui credo che sia di lava vediamo un po' voglio farlo perfetto deve diventare lava sto cervo dai raga è una cosa bellissima però secondo me viene ancora meglio con la lava anche se il ghiaccio dovrebbe sciogliersi ma la lava rimane no? spero beh io intanto lo faccio intanto mi chiamano attenzione epico finito male cazzo raga devo rispondere porco due faccio prima una cosa del genere scusate la vibrazione però sti cazzi facciamo così boom 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 ok mi sto andando tanto bene perché mi chiamate porco dio porco scusate le bestie mie però fa parte di me ok ci fermiamo qui poi continuiamo ok raga tutto pronto facciamo qui non è neanche passata la notte che cosa brutta mamma mia poteva almeno passare qui però sinceramente noi siamo agab e facciamo i griffing di notte intanto qui facciamo un'altra cosa del genere troviamo un altro disco ma sti gran cazzi noi non siamo qui per esplorare stiamo per fare un griffing della madonna è stata la torre rimangono solo gli spuntoni intanto il cervo è ancora lì pieno di lava non ha preso la forma che volevo io sarebbe solo figo ok mettiamo qui tnt tnt oh frate tnt vaffanculo ci creiamo un'uscita artificiale dai su ok mi sa che è leggermente molto il villager lì non dobbiamo essere più aggressivi raga ok facciamo così poi c'è qualcos'altro da griffare un altro cervo mamma mia questo lo griffiamo dall'interno frate fratello mamma mia questo è fatto bene ad intro è fatto posta per tnt e come cazzo esco adesso ok boom 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 vediamo un po' boom c'è rimasto la testa povero la testa deve rimanere dai ok facciamo così e siamo tornati al posto di prima grandissimi grandissimi grandi dai ok raga io direi di fare esplodere queste tnt che non ho fatto esplodere prima poi 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 ok raga non ho trovato il posto che volevo trovare io ma ho trovato queste altre casette quindi direi di distruggere queste e poi concludere l'episodio e questo speciale tra l'altro dovrei fare anche quello dei 250 iscritti se siete arrivati a questo punto ditemi se volete su minecraft gta o fifa un episodio speciale della nostra carriera carriera che farò per poco altro tempo perché ho intenzione di farne un'altra col ovigliariallo valencia vedremo tanto qui boom e non succede un cazzo vaffanculo facciamo una cosa del genere dai esplodi tutto esplodila esplodila boom ok raga boh credo che non ci sia più niente vediamo un po' ok raga siamo arrivati alla fine del video questo è il fottutissimo risultato tutta lava però prossimamente nella prossima già dal prossimo episodio non sarà così perché ci metteremo più di impegno intanto per questo video è tutto per questo speciale è tutto per questo natale è tutto se vi è piaciuto lasciate un like commento iscrivetevi al canale per oggi è tutto ciao a tutti ciao a tutti